Ciao a tutti! Benvenuti su Top 5 News Italia, il canale che vi tiene sempre aggiornati sulle notizie e i gossip più interessanti. Oggi parleremo di un argomento scottante, il dibattito sulla partecipazione delle donne transgender a Miss Italia. La patron del concorso di bellezza, Patrizia Mirigliani, è finita al centro delle polemiche dopo aver respinto la candidatura di due donne transgender per il concorso. Durante un'intervista alla Zanzara, su Radio 24, la Mirigliani ha difeso la sua decisione affermando che, secondo il regolamento, le partecipanti devono essere donne dalla nascita. Ha dichiarato di essere stanca del politicamente corretto che la costringerebbe a dover cambiare le regole in corsa per adeguarsi alle nuove tendenze. Insomma, per lei la priorità è il rispetto per il suo pensiero libero e non politicizzato. Questo rifiuto ha scatenato una serie di reazioni contrastanti. Da una parte c'è chi sostiene la sua decisione di preservare la tradizione e l'identità di Miss Italia, sottolineando l'importanza di un concorso che ha fatto tanto per le donne e ha trasmesso valori positivi. Dall'altra parte, CI sono coloro che ritengono che il concorso dovrebbe essere aperto a tutte le donne, comprese le transgender, per rispecchiare l'evoluzione della società e promuovere le pari opportunità. La situazione in Olanda, dove una modella transgender ha vinto l'ultima edizione del concorso nazionale, ha ulteriormente acceso il dibattito. Mirigliani ha osservato che, pur rispettando la scelta olandese, la cultura e la tradizione di Miss Italia hanno un peso specifico e vanno preservate. Vladimir Luxuria, figura importante per la comunità LGBTQ+, ha criticato la posizione di Mirigliani, sostenendo che le transgender dovrebbero avere le stesse opportunità delle altre concorrenti. Ha sottolineato che la transizione di genere dovrebbe essere sufficiente per ammettere una donna transgender al concorso. L'argomento si è poi esteso al contest Miss Bergamo Brescia Capitale della Cultura, dove Patrizia Mirigliani ha difeso il ruolo di Miss Italia come un concorso che va oltre l'aspetto estetico. Ha sottolineato che le partecipanti rappresentano un mix di aspetto estetico, personalità e storie di vita, contribuendo così a creare cultura e a riflettere l'identità delle donne italiane. Ha anche respinto l'accusa di aver rubato il logo della Capitale della Cultura, ritenendo che si tratti di una questione legata alla gestione regionale. Ogni partecipante ha una storia unica da raccontare, sfidando già i stereotipi e dimostrando il coraggio di rappresentarsi nella società odierna, dove la bellezza è spesso oggetto di critiche. Miss Italia, con i suoi 84 anni di storia, è diventato un simbolo dell'identità e della storia delle donne italiane. Ma adesso vogliamo sentire la vostra opinione. Cosa ne pensate della decisione di Patrizia Mirigliani di respingere le partecipanti transgender a Miss Italia? Ditecelo nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale, attivando tutte le notifiche con la campanella, per restare sempre aggiornati sulle notizie e i gossip più interessanti. Alla prossima! Questa notizia finisce qui. Per le altre trovate i links in descrizione. Grazie per averci scelto. Vi aspettiamo nelle prossime news.